Un giubbino bellissimo, film tratto da una storia vera, scritto e diretto da Alen e Peppe, personaggio Enrica. Questa è la giacca di Enrico, era, che dopo aver fatto sto investimento al famoso atelier Zara, 49,90€, alla prima notte in disco accadde che si bucò con una sigaretta. Ok, succede, ma a sto prezzo che fa? La manda in sartoria per farla riparare! Un pazzo, ma la molestia sta nell'avere avvisato e chiesta a noi tutti di portare sto cimedio rattoppato anche male, al che la banda, capitata da Peppe, ha deciso di rimborsargli l'acquisto sbagliato, ma giocandoci un po' con la spedizione al vittente di una giacca griffata, graffiata. Cielo e la toppa, perché la toppa è più brutta di prima. C'è un po' di esperimenti, dobbiamo portarvi davvero una cosa autentica, perché? E ci metteremo. Cielo e la toppa. Così sembra fatta apposta. Così sembra fatta apposta. Guarda lui che scusa la manica. Giaccat. Ho preso l'hanno riparato. Non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Ragazzi ma voi non ci capite un cazzo di giubini. E questo è il top del top. Non c'è l'ho. 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 L'ho. Non c'è l'ho. Viva. Grazie. 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 Sottomissione. Grazie. 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 Grazie a tutti.